e che ve lo dico a fare ci stanno confondendo le idee ma non da mo da tempo ma ancora di più cioè un ragazzino io gli dico parlami di armstrong quello mi dice ah si armstrong quello che andò sulla luna e vinse un sacco di tour de france in bicicletta e arrivava al traguardo suonando la tromba armstrong e rossi 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 quando si parla di sport è quello che ha vinto il mondiale sì sì il mondiale sulla motocicletta fu capocannoniere segnava tutti i gol e poi se ne andava a teatro poi non parliamo dell'allegria di Morandi Morandi quello che Morandi quello che ha costruito il ponte si quello il ponte è caduto ma Morandi il ponte è caduto perché lo costruì a Genova mentre cantava in ginocchio da te è Giordano la filosofia Bruno Giordano Bruno Giordano Giordano Bruno vabbè era un famoso capocannoniere della Lazio si poi fu messo a rogo perché sbagliò un rigore però però questa è la cultura confusionaria di oggi io ho detto un sacco di fesserie però queste cose se andate a ben vedere non tutte una volta per fortuna ma ogni tanto diciamolo alla paesana qualche sciuffolone sui giornali in televisione per radio capita no qualche collega giornalista fa confusione ma questa non è manca colpa sua è vero non possiamo dire che i livelli di conoscenza sono uguali per tutti no parlo di me per non parlare degli altri io magari ne so più di qualcuno ma meno di qualcun altro sicuramente sono di più quelli che sanno più di me rispetto a quelli che ne sanno di meno e così via però tante volte poiché la notizia oggi va bruciata subito no la fretta la fretta e allora magari non si va neanche a controllare qualche lapsus qualche lapsus viene qualche lapsus e io qui 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 pongo la mia domanda ma non è che qualche lapsus è venuto pure a Putin perché se io dico che secondo me lui ha sbagliato e la zeta che ha misa ai soldati pensando che fosse la sua in realtà era quella di Zorro che era un paladino della giustizia no californiano don diego della vega che si batteva per la giustizia e probabilmente Putin si è sbagliato alza pennello no